Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Un progetto da circa 2 milioni di euro finanziato da pubblico e privato che trasformerà la costa di Monte Silvano. In prossimità del fosso Mazzocco sorgerà il pontile più lungo d'Italia con tanto di trabocchi. Ascoltiamo. Anche Monte Silvano avrà i suoi trabocchi. Presentato questa mattina il progetto di riqualificazione da circa 2 milioni di euro del fosso Mazzocco. Qui sorgerà un pontile di 340 metri, il più lungo d'Italia, che culminerà con una forma M, M come Monte Silvano, dove verranno realizzati dei trabocchi. Diventa un rendimento di lavori pubblici arricchito da una sua valorizzazione, cioè valoriamo questo aspetto attraverso un pontile, una stazione permanente dove ci sta un laboratorio di biologia marina, due infrastrutture che servono alle istituzioni per attività sociale e non. E poi il fatto di dare alla città di Monte Silvano questo pontile che va a 300 metri e che consente poi a chi viene con la barca di potersi ormeggiare sotto il pontile, salire e venire sulla strada. Il cantiere partirà ad ottobre 2023 e dovrebbe terminare nel 2024. Marsilio si è detto favorevole a cofinanziare il progetto, ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Ma ci saranno anche fondi privati dei balneatori che continuano a investire, benché tra un paio di anni potrebbero vedere revocate le concessioni. Beh, noi intanto abbiamo il titolo del Magnale che ci scade nel 2033, poi discutiamo se è nullo o non è nullo, ma nel frattempo ragioniamo in questi termini qua. Il ritorno però dovrebbe essere anche ambientale. Le acque reflue che confluiscono nel fosso ristagnano sulla battigia. Con la nuova infrastruttura saranno scaricate a largo con benefici, dicono i tecnici, per la balneabilità delle acque. Puntiamo alla bandiera blu, ha dichiarato il sindaco De Martinis. Il fosso mazzocco da anni ci costringe a interventi volti appunto a evitare malodore, ristagno di acque reflue che si depositano proprio sulla spiaggia e durante i periodi estivi, insomma, per una città turistica questo rappresenta davvero un problema importante. Ma al tempo stesso, con quest'opera, noi regaleremo al territorio un qualcosa di davvero bello, davvero funzionale, con la restituzione appunto di spazi che possa poter fruire anche lontano dalla spiaggia. In occasione del convegno pescarese sulle malattie rare, la ONLUS Progetto Noemi torna a chiedere la realizzazione del primo reparto di terapia intensiva pediatrica. L'Abruzzo è tra le sei regioni italiane che ne sono sprovviste. Vediamo. In Abruzzo non esiste alcun reparto di terapia intensiva riservato ai più piccoli. In Italia le terapie intensive pediatriche sono 23 per un totale di circa 200 posti letto, ovvero tre letti ogni milione di abitanti, al di sotto della media europea che pare a otto. L'Abruzzo è tra le sei regioni italiane dove questo reparto è assente, quindi se mai un bimbo dovesse avere necessità di essere ricoverato in reanimazione, questo sarebbe curato nel reparto per gli adulti. Le terapie intensive pediatriche più vicine sono quelle di Roma e Ancona. Essere assistiti in unità di terapia intensiva dedicate, fanno sapere gli esperti della Società Italiana di Pediatria, significa migliorare la prognosi rispetto ai bambini che vengono ricoverati in terapie intensive per adulti. Insomma, i bambini sono curati meglio nei reparti loro dedicati, ma non solo. Secondo gli addetti ai lavori, la mortalità dei pazienti aumenta nelle unità operative a basso volume. In Abruzzo, per i più piccoli, esiste solo il reparto di terapia subintensiva. Si trova a Pescara ed è stato realizzato dall'Aggiunta d'Alfonso su impulso dell'associazione Progetto Noemi, la onlus fondata dai genitori di una bambina affetta da atrofia muscolare e spinale. L'incontro di ieri sulle malattie rare promosso dalla ASL è stata occasione anche per affrontare questa tematica, quella di una sanità a misura del paziente. L'Abruzzo ha coraggio, riesce davvero a dare seguito alle richieste che noi facciamo attraverso l'associazione Progetto Noemi. Ma ora più che mai c'è bisogno di un reparto di terapia intensiva pediatrica che si muoge all'unisono con la subintensiva pediatrica che ad oggi esiste ed è l'unica presente in Abruzzo proprio nell'ASL di Pescara. Stiamo allestendo gli spazi e formando il personale, questa la risposta dell'assessore regionale alla sanità. Al momento però non c'è alcuna data in cui il reparto dovesse effettivamente essere inaugurato. Bisogna investire anche nelle cure domiciliari, dice Sciarretta, affinché le famiglie dei pazienti non vengano lasciate sole. Sicuramente bisogna comunque entrare nell'ottica che la malattia rara incide nel nucleo familiare in un modo devastante. Quindi il primo luogo bisogna individuare dei riferimenti regionali, quindi delle strutture ospedaliere in grado di dare assistenza a 360 gradi. Quindi diagnosi, cura, ma soprattutto anche lavorare sull'assenza domiciliare. Quindi cercare di far sì che l'ospedale vada a casa del paziente, del bambino. I PM hanno richiesto il rinvia a giudizio per il direttore generale della ASL di Pescara, Ciamponi, e la cooperativa La Rondine di Lanciano. L'inchiesta è quella dell'apparto da 11 milioni per servizi extra ospedalieri, segnata dallo suicidio in carcere di Sabatino Trotta. Il GUP ora dovrà decidere se gli ultimi due imputati ancora in ballo, il manager e la copp, andranno a processo. Erano attese e sono arrivate. I PM Anna Benini e Luca Sciarretta hanno firmato, inoltrato al GUP, le richieste di rinvio a giudizio per il manager della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, e per la cooperativa La Rondine di Lanciano. Il giudice dell'udienza preliminare ora potrebbe decretare il non luogo a procedere, ma con ogni probabilità la vicenda dell'appalto truccato da 11 milioni di euro finirà in tribunale. Secondo quanto ricostruito, la cooperativa si sarebbe aggiudicata ai servizi extra ospedalieri corrompendo Ciamponi, regalandogli un Rolex mai rinvenuto e almeno 8 mila euro. Tra il manager Domenico Mattucci, allora presidente della Rondine, ruolo di tramite lo avevano assunto Luigia Dolce, coordinatrice della cooperativa, e Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Mentre Mattucci e Dolce hanno patteggiato e ricevuto la sospensione della pena a due anni e la non menzione, Trotta si suicidò in carcere a Vasto il giorno stesso del suo arresto, il 7 aprile scorso, decretando la fine del filone politico dell'inchiesta. In ballo, infatti, secondo la procura, c'era altro al di là dei soldi. Trotta, che alle scorse regionali si era candidato con Fratelli d'Italia, risultando il primo dei non eletti, mirava una scalata all'interno del partito della Meloni, una scalata sponsorizzata proprio dalla cooperativa lancianese da circa 650 dipendenti e 10 mila assistiti che gli avrebbe assicurato un bacino elettorale. Come confessato dalla Dolce e confermato dalle intercettazioni, Trotta e la coordinatrice si erano recati insieme a Roma per consegnare una busta a un funzionario ministeriale, la cui identità è rimasta ignota, poiché mentre Trotta lo incontrava, la Dolce passeggiava per le vie della capitale. In mano agli inquirenti, quindi, gli elementi di prova riguardano solo la turbativa d'asta. Ciamponi resta saldo alla guida della ASL pescarese, finora nessuno ne ha messo in dubbio il ruolo. L'azienda sanitaria, dal canto suo, su questa vicenda si è espressa solo in due circostanze. La prima, il 23 aprile, quando fu rivendicata la legittimità dell'appalto. Il provvedimento di aggiudicazione e l'accessivo contratto, si leggeva in un comunicato stampa, sono stati sottoscritti a seguito di approfondita e rigorosa istruttoria ad opera dei competenti uffici amministrativi dell'ASL, con la consulenza di un legale esterno esperto della materia. La seconda, quella del 27 aprile, quando con un secondo comunicato diramato quattro giorni dopo il primo, l'ASL ha annullato l'appalto per gravi illeciti professionali, poiché la gara, si legge nel testo firmato da Ciamponi, fin dall'inizio perseguiva interessi privati e non pubblici. Nel frattempo, la rondine, per cui insieme a Ciamponi è stato richiesto il rinvio a giudizio, all'arresto di Mattuccia è eletto un nuovo presidente, smarcandosi dalla precedente gestione. Archiviate invece le posizioni di Antonio Dincecco e Anna Rita Simoni, componenti della commissione di gara. È probabile che i PM li ritengano più utili come tester nel processo ormai alle porte. Positivi e ricoveri in calo con l'Abruzzo che è tornato in zona gialla. Il virologo Paolo Fazzi invita però alla prudenza e spiega che probabilmente ad oggi è preventivabile in autunno una quarta dose. Ascoltiamo. Dottor Paolo Fazzi, ricoveri in discesa, numero di positivi in discesa, Abruzzo tornato in zona gialla, si inizia a vedere la luce ma non bisogna abbassare la guardia, lei lo ha detto anche nei giorni scorsi. Proprio così. Allora, la situazione epidemiologica fortunatamente volge al meglio. Abbiamo un meno numero di casi, abbiamo un meno numero di casi da ospedalizzare. I decessi che osserviamo adesso sono situazioni legate a 3-4 settimane fa perché purtroppo quando si aggrava questa patologia non ti fa morire nell'arco di 24-48 ore. Solitamente purtroppo è un'escalation progressiva e graduale, quindi sono situazioni diciamo di 3 o 4 settimane fa. Omicron non è ancora quel tanto auspicato virus endemico cosiddetto che è in grado di causare solamente un raffreddore comune. Le cose non stanno in questi termini. È ancora un virus che spaventa e può miedere anche ancora numerose vittime. La situazione perché miglioramento? La situazione di miglioramento perché fa caldo, è aumentata la temperatura e quindi questo virus patisce l'aumento della temperatura. Ci aspetterà un'estate che la passeremo sicuramente meglio delle ultime due, soprattutto della prima, quando non c'erano vaccini e quando il virus era sicuramente più virulento e patogeno. Però Omicron starà con noi, circolerà fra di noi. Noi dobbiamo cercare di farlo circolare poco in modo tale da presentare una platea ridotta di soggetti infetti per il prossimo autunno-inverno. Perché per il prossimo autunno-inverno, salvo situazioni molto fortunate, fortunose. C'è una variante che riuscirà a sostituire radicalmente Omicron ad altissima capacità infettante e a patogena, ma probabilmente ancora presto. Probabilmente avremo a che fare ancora con Omicron o con una generazione di virus molto prossima ad Omicron anche se sicuramente meno patogena. Dottor Fazzi, per chiudere, quarta dose di vaccino, vogliamo un po' chiarire, si farà chi verrà vaccinato? Perché si deve fare? Perché l'incontro tra questo gruppo, questa famiglia di virus, i coronavirus, con la specie umana produce anticorpi non molto duraturi. La mediana della presenza di anticorpi che ci proteggono è di 9-12 mesi. Questi 9-12 mesi però sono un periodo di tempo che si osserva nel soggetto giovane immunocompetente. Nel soggetto anziano, nel soggetto fragile in quanto immunodepresso, ovviamente la possibilità di avere anticorpi neutralizzanti che riescono quindi a proteggere l'infezione, il tempo si riduce notevolmente e quindi è giusto fare una quarta dose in questo gruppo di soggetti anche in questo periodo. Per quanto riguarda tutti gli altri, probabilmente faranno una quarta dose prima dell'autunno per prepararsi poi la circolazione del virus, come dicevo prima, nei mesi più freddi e non lo so se dovrà essere necessaria una quinta dose, magari fatta come per il virus influenzale, magari ogni anno nel mese di ottobro-novembre. Questo però non si può prevedere, dipende da come andrà l'epidemiologia di Covid-19 nel mondo. La crisi in Ucraina potrebbe ripercuotersi anche sull'economia abruzzese. A rischio ci sono 86 milioni di euro di export verso la Russia. La guerra riguarda tutti. Se la Russia dovesse invadere l'Ucraina, le ripercussioni potrebbero giungere fino in Abruzzo. Il 41% del gas che arriva in Europa innanzitutto proviene dai giacimenti siberiani. Nel 2021 oltre un quinto di quello arrivato, secondo l'Oxford Institute for Energy Studies, ha attraversato l'Ucraina. Ma c'è dell'altro, dall'allargamento della NATO a est, dall'intervento militare russo e da un'eventuale guerra, l'Abruzzo potrebbe perdere 86 milioni di euro. Questo l'ammontare dell'export abruzzese verso la Russia, secondo il Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila. Degli 86 milioni, 51 riguardano le esportazioni della sola provincia tiatina. Se consideriamo i problemi già attuali, come l'aumento del costo delle materie prime e dei trasporti della merce, in caso di embargo e sospensione degli scambi commerciali, il danno per l'economia abruzzese potrebbe essere immane. C'è un precedente, quando nel 2014 il governo di Putin decise l'occupazione della Crimea, anno in cui fu soppresso il volo Pescara-Mosca. A causa del conflitto, dal 2013 al 2021, l'export abruzzese ha registrato un calo di oltre il 75%, il crollo peggiore tra tutte le regioni italiane. Se nel 2013 il valore delle esportazioni era pari a oltre 260 milioni di euro, nel 2021 è stato meno di 63 milioni. Il chietino, nel periodo considerato, ha perso l'81% e detiene un inquietante primato tra i primi 20 territori italiani presenti sul mercato russo per valore delle esportazioni, è quello che registra il crollo peggiore, tanto da scivolare al quarantesimo posto. Solo la provincia dell'Aquila registra una crescita negli ultimi nove anni, pur restando tra gli ultimi territori per valore dell'export. Auspichiamo che ci sia ancora spazio per la diplomazia, ha dichiarato il direttore generale di Confartigianato Chieti l'Aquila, Daniele Giangiulli. Si è tenuta a Pescara la conferenza per illustrare le novità sul raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Al via il dibattito pubblico. Una grande opportunità da sfruttare per il rilancio infrastrutturale dell'Abruzzo. Il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è prioritario e questa mattina se n'è parlato a Pescara-Laurum dove al fianco del presidente della regione Marco Marsiglio è intervenuto anche il commissario di governo per l'opera Vincenzo Macello che ha sottolineato l'importanza del dibattito pubblico. In remoto da Roma è intervenuto anche il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Il PNRR vede un investimento straordinario sulle ferrovie per superare quei gap storici che sono stati talvolta anche oggetto di dibattito sui media e anche di iliarità. Dunque il dibattito pubblico come elemento fondante di una trasformazione del paese, come uno strumento di innovazione, innovazione non solo tecnologica, innovazione nei sistemi di mobilità ma anche di innovazione sociale. Tanto ha prodotto il buon risultato di portare su questa regione finalmente i soldi veri per fare per davvero la ferrovia. Vorrei che non si perdesse mai di vista questo obiettivo perché è vero che ogni volta che si realizza un'opera c'è qualche impatto sul territorio e qualcuno protesterà e qualcuno rimarrà colpito nelle proprie e dobbiamo giustamente lavorare per ridurre al minimo questi impatti, per indennizzare le persone dove gli impatti sono inevitabili. Ma l'obiettivo vero e il fatto di cui deve discutere l'Abruzzo è che finalmente cominciamo a lavorare per fare per davvero una ferrovia più moderna, più efficiente e più veloce. Questa prima poche decine di chilometri, diciamo da Pescara fino a Scafa, sono la prima parte di un progetto complessivo che si svilupperà lungo tutti i 210 chilometri della linea ferroviaria e che permetteranno alla fine di questo percorso di avere una linea che da Roma a Pescara collega in meno di due ore. Noi non ci vogliamo cacciare dentro un vicolo cieco come hanno fatto altri prima di noi, vogliamo che i soldi stanziati che abbiamo reperito, i progetti che siamo riusciti a far condividere e le priorità che abbiamo imposto al Governo nazionale, al Ministro delle Infrastrutture, a Rete Ferroviaria italiana vengano rispettate perché per troppi decenni l'Abruzzo non è stata una priorità nelle politiche nazionali. Tutto l'itinario da Roma a Pescara è inserito all'interno della legato 4, al decreto 77 della legge 108, pertanto anche i 4 lotti che riguardano il tratto fra Pescara e Interporto saranno soggetti alla procedura della legato 4 che in particolare prevede l'avvio del dibattito pubblico che avverrà entro il mese di aprile. Il cronoprogramma dei lavori soprattutto per i lotti che riguardano questo territorio, mi riferisco all'otto Interporto Manopello, Manopello Scafa, prevede la chiusa l'italità autorizzativa per giugno di quest'anno, successivamente avvieremo le attività negoziali per poter andare in gara d'appalto e avviare i lavori nel 2023. Questo ci consente, visti i tempi di realizzazione che sono di circa tre anni e mezzo, ad arrivare all'obiettivo degli agosto 26 come ultimazione dei lavori che è l'ultima chiamata per la rendicontazione all'Europa per il PNRR. Cresce la tensione in Ucraina e di conseguenza aumenta la paura tra i parenti che vivono ormai da anni nella nostra regione. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze, tra queste quella di una mamma che vorrebbe riabbracciare i suoi figli bloccati nel mezzo di una guerra. Ascoltiamo. La richiesta di aiuto all'Europa arriva dalla voce rotta dalle lacrime di questa signora da otto anni a Pescara e che in Ucraina ha lasciato due bambini piccoli. Ansia, paura e terrore sono gli stati d'animo dei circa 3.800 cittadini ucraini, la maggior parte donne residenti in Abruzzo, 1.600 solo in provincia di Pescara. Cercano di informarsi seguendo le notizie, alcune ci dicono certamente false. In Ucraina le città sono nel caos, prese d'assalto farmacie e supermercati per far scorta di vivere in medicina e acqua potabile. Alcuni hanno comprato generatori per timore che possa andar via la corrente. Chi può è già scappato via terra, ma le strade di confini sono bloccati, per questo è anche difficile tornare in patria. La conferma ci arriva da Alessandro e da Volodimir, ormai da anni in Italia ed impiegati presso il mattatoio comunale di Pescara. Io voglio aiutarci, però sta troppo lontano da loro, capito? Noi siamo qua in Europa, lavoriamo per che cosa? Per crescere in Ucraina, capito? Che noi non abbiamo lavoro, non abbiamo niente là. È rimasta soltanto la figlia con l'ex moglie e i nipotini. I parenti di mia moglie ancora stanno là e loro rimangono proprio nel paese, in metà di Ucraina ci sono un paese che si chiama Uman. I più giovani, sorelle, fratelli, tutti andati verso la Polonia, però sono rimasti bloccati proprio lì alla Dogana, che la Dogana per il momento ha 30-35 km al traffico. Sì, ci sono, poi ci sono tante famiglie che ora si trovano in una situazione brutta, speriamo che andrà tutto bene. Certo, ma non solo per nostra, ma anche per la popolazione di quelli che stanno a fare la guerra, sta a morire la gente là. La guerra tra Russia e Ucraina sta toccando anche il mondo imprenditoriale della nostra regione. Se da un lato c'è incertezza per quelli che saranno i risvolti economici, dall'altro c'è il lato umano. Infatti da giorni è sempre più difficoltoso scambiarsi mail e messaggi telefonici. Ascoltiamo. Le ultime che arrivano dall'Ucraina tengono in apprezzione non poco chi da anni ha scommesso sulla nazione con le proprie aziende. Umberto Marini, imprenditore del settore della farmaceutica, ai nostri microfoni racconta l'angoscia di queste ultime ore dove non ha più notizie dei suoi collaboratori. In Ucraina sono presente con una organizzazione, una filiale e fino a ieri sera ho ricevuto comunque messaggi via WhatsApp o comunque via mail. Da ieri non ho più notizie. In bilico c'è la democrazia ucraina, per questo tornare a fare imprenditoria in quei posti non sarà più cosa semplice. Non è la parte finanziaria e economica che viene a essere distrutta, è tutta l'organizzazione. Organizzazione di un posto come l'Ucraina dove trovare persone affidabili, corrette è sempre molto difficile. Invece adesso con la guerra di parto verrà borverizzato tutto l'investimento umano. In questo momento quanto potrebbero essere fondamentali degli aiuti per queste persone e in che modo? Ora io non sono un politico, faccio imprese. Dico sempre che quando si fa qualcosa bisogna vedere i pro e i contro. Gli investimenti fatti dicono che quello è un popolo che comunque ha una grande forza. Aiutarli significa in questo momento forse mandargli le armi, ma non è il mio compito. Dal punto di vista umano l'unica cosa è stargli vicino, ma bisognerebbe avere le comunicazioni e in questo momento le comunicazioni stanno sempre più diventando impossibili. Io auguro all'Ucraina un grande divenire, certamente non sotto la Russia. adesso cambiamo argomento e parliamo di sport. Pescara atteso dal posticipo di lunedì sera contro il Modena. Sempre in dubbio di Ambo mentre Veroli e Pontisò vanno verso il recupero. Pronto a tornare dal primo minuto il bomber Ferrari. In queste ore però tiene banco il caso Plus Valenza con la società Bianca Azzura che sta avaliando la difesa ai rilievi mossi della Procura federale. Vediamo. Il Pescara studia la linea per dimostrare la sua estraneità alle contestazioni della Procura federale, secondo cui la società Bianca Azzurra, come anche Parma e Pisa, attraverso Plus Valenza e gonfiate e quindi attribuendo a calciatori valori superiori a quelli di mercato, sempre che esistano dei parametri oggettivi per una loro definizione, hanno dato al proprio bilancio una rappresentazione tale da ottenere l'iscrizione a dei campionati cui altrimenti non sarebbero stati ammessi in base alle disposizioni vigenti. Questo dice il punto 2 dell'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, tirato in ballo dalla Procura federale, mentre per le altre otto società coinvolte da questo primo filone di inchiesta sulle Plus Valenze, Juventus, Napoli, Sampdoria, Genoa, Empoli, Provercelli e le non più affiliate Chievo e Novara, c'è solo il punto 1 che prevede al massimo una ammenda con diffida. Il Pescara ha tempo altri 10 giorni per depositare una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati le strade per convincere la Procura ad archiviare il procedimento. In caso contrario o in caso le spiegazioni di questa fase non fossero sufficienti, la Procura farà scattare il deferimento davanti al Tribunale federale nazionale. Si aprirebbe il procedimento sportivo vero e proprio che porrebbe due problematiche. Da una parte respingere le accuse che, se accolte dagli organi di giustizia sportiva, porterebbero a sanzioni che vanno da una penalizzazione in classifica a quelle più gravi di retrocessione all'ultimo posto o esclusione dal campionato. L'onere della prova, nella giustizia sportiva, è a carico di chi si difende, dunque del club. E poi i tempi. Un eventuale deferimento comunicato nella prima decade di marzo porterebbe ad una udienza di primo grado celebrata nella metà di aprile. Il campionato si chiude a fine mese e il rischio è quello di definire una griglia playoff con un verdetto non definitivo. Eventuale secondo grado da discutere a maggio, con i playoff in pieno svolgimento. Spetterà a Lega e Federcalcio gestire una situazione delicata. Pisa e Parma giocano in B e i toscani sono in lotta per la seria diretta. Il caso più recente di condanna per plusvalenze fittizie risale all'estate 2018, quando Cesena e Chievo furono deferite per operazioni incrociate fatte sovrastimando i cartellini dei giocatori scambiati. Alla fine di una vicenda intricata il Cesena ebbe 15 punti di penalizzazione in primo grado, ma in quella stessa estate sparì e il procedimento non andò oltre. Il Tribunale federale riconobbe delle differenze al Chievo che venne punito meno severamente con tre punti di penalizzazione. La procura ne chiese 15, meno tre che fu confermato in secondo grado dalla Corte federale d'Appello e in terzo grado dal collegio di garanzia del CONI. Il presidente del Chievo, Campedelli, venne inibito per tre mesi. Alle 14.30 scontro salvezza per il Teramo che al Bonolis riceve il grossetto dell'ex Maurizzi. Gara determinante per il Biancorossi che chiudono un ciclo incredibile di gare in pochissimi giorni. Queste le parole del tecnico Guidi in conferenza a stampa. Domani è una partita di grandissima importanza, ma ogni partita, visto che quelle che mancano alla fine del campionato diminuiscono sempre di più, ogni singola partita assume un valore sempre più grande. Domani è un avversario ostico, difficile. In classifica è vero che in questo momento sono in ultima posizione, ma stanno facendo delle ottime prestazioni, vendono cara la pelle in qualsiasi partita. In qualcuna delle ultime uscite hanno fatto zero punti, ma non meritavano di uscire sconfitti. È una partita che dobbiamo giocare bene, consapevoli che, come vi ho detto in precedenza, sarà la quinta partita in due settimane. Quindi, secondo me sarà importante giocare molto bene tecnicamente e soprattutto dobbiamo avere la capacità di mantenere le distanze vicine tra compagni e reparti, perché dopo tanto dispendio energetico è chiaro che se tendi ad allungarti e a perdere le distanze poi diventa una partita che forse i nostri avversari sono più abili a fare rispetto a noi. Sicuramente qualche cambiamento ci sarà, sarà la quinta partita in due settimane ed è fisiologico che ci possano essere dei cambiamenti, sempre in relazione al recupero dei ragazzi, perché se ci sono calciatori che pur giocando tanto ma sono riusciti a recuperare e sono in condizione ottimale andranno sicuramente in campo. Però qualche cambiamento sicuramente ci sarà. Ma secondo me all'interno della partita ci sono tante mini partite da giocare. Io penso che il Grosseto cercherà di inibirci la nostra prima costruzione, venendo anche a prenderci uomo su uomo, questo me lo posso aspettare. Mentre in manovra riesce a chiudere spazi anche all'interno della propria metà campo e cercare di ingolfarci un po' gli spazi. Noi dobbiamo essere molto bravi nella prima costruzione perché se riusciamo a eludere la prima pressione e il loro pressing è chiaro che riusciremo ad attaccarli e a mettere un po' i nostri attaccanti nelle loro abilità migliori, quindi esaltando i loro pregi piuttosto che magari i nostri difetti. E quando invece riusciremo in manovra a metterli o dover attaccare spazi stretti è chiaro che dobbiamo avere grande pazienza nel trovare il varco giusto e soprattutto dobbiamo stare molto attenti all'eventuale ripartenza e quindi riaggressione e marcature preventive saranno un tema dominante nella partita di domani. Con questa notizia termina l'edizione del Tg6 la settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.